Allora, bene, iniziamo la group call di stasera parlando di idee per un'alimentazione estiva un pochettino più sfiziosa. Allora, quando ci si avvicina all'estate sappiamo che molto spesso facciamo ancora più fatica a seguire la tradizionale alimentazione perché fa caldo, perché sudiamo tanto, perché magari veniamo da un inverno in cui abbiamo mangiato sempre gli stessi alimenti e quindi trovare delle soluzioni agevoli ci fanno comodo, assolutamente, perché quando si cade sempre nella stessa e medesima routine facciamo sempre molta fatica a seguire e di conseguenza poi se non seguiamo dov'è che si va a cadere? Si va a cadere nello sgarro e si va a limitare i nostri progressi e questo non è quello che assolutamente vogliamo anche perché magari abbiamo fatto un sacco di sacrifici durante l'inverno per fare dei passettini in avanti e non li vogliamo certo vedere vanificare in estate. Quindi quali sono delle idee che potremmo applicare quando ci avviciniamo alla fase estiva? Allora, personalmente, vi sembrerà scontato ma non lo è, cercare di spostare tutto sui cibi freddi, ok? Il cibo freddo ci avvantaggia anche da un concetto di preparazione perché chiaramente quando prepariamo delle insalatone, prepariamo dei piatti che sono molto buoni e anche freddi di conseguenza ce li possiamo portare in giro sul lavoro, se stiamo in viaggio, se stiamo facendo una trasferta quindi dal punto di vista della conservazione ma non solo ma anche proprio del consumo del piatto freddo se è un qualcosa che nasce per essere freddo si consuma molto più piacevolmente. Il concetto dell'insalatona. Le persone che non sono molto avvezze a seguire un certo tipo di piano alimentare chiamolo da palestra, quindi più votato all'iperproteica, hanno un concetto sbagliato dell'insalatona perché magari si fanno dell'insalatone dove c'è solo verdura. In realtà nell'insalatona poi possiamo integrare tutti gli elementi che ci possono servire. Io per esempio vado dove vado a pranzo io quando sono fuori, non so se avete visto le storie che ho postato su Instagram oggi lì hanno una selezione incredibile di tutti i cibi che sono ottimi anche a consumati freddi e in effetti quando vado lì riesco a trovare effettivamente tutti gli alimenti per poter strutturare un'insalatona che all'interno contenga effettivamente tutto, cioè contenga la parte proteica, contenga la parte dei carboidrati contenga la parte delle fibre e contenga la parte dei grassi. Quando andiamo a strutturare la nostra insalatona possiamo in maniera un minimo fantasiosa creare dei piatti dove all'interno c'è veramente tutto quello che ci serve e non è che magari necessariamente per forza ci dobbiamo aiutare con lo shaker proteico, ok? Che è una soluzione però obiettivamente, sebbene voi sapete che io spesso promuovo una nuova azienda integratore alimentari quando si tratta di mangiare, il mangiare è un'altra cosa, cioè il frullato può andar bene per l'amore del cielo col concetto dello spuntino o se effettivamente siamo rimasti senza fare la spesa e non ci abbiamo proprio niente però il cibo vero è tutta un'altra cosa. Allora, veniamo come possono essere fatte questi insalatoni. Allora, quando si parla di un insalatona, comunque di preparare un pasto che contenga pochissimi carboidrati comunque dove all'interno non abbiamo carboidrati, la scelta è semplice andiamo ad inserire logicamente l'insalata che può essere di qualsiasi tipo e poi come quota proteica può andar bene il pollo lesso, può andar bene il pollo alla griglia può andar bene l'albume d'uovo che è ottimo, chiaramente lo dovete cucinare prima, lo mettete in frigo l'albume d'uovo cucinato non è che regge molto in frigo, sinceramente però se lo fate la sera prima, lasciate raffreddare un po' e poi lo mettete in frigo al giorno dopo va tranquillamente poi lo versiate nell'insalata e mangiate l'insalata con gli albumi oppure fate l'uovo sodo e poi togliete l'albume e mettete l'albume sodo nell'insalata se avete l'uovo intero perché il vostro piano ve lo permette, utilizzate anche l'uovo intero ci potete inserire il classico tonno, logicamente sempre meglio utilizzare del tonno al naturale di buona qualità e poi magari inserire l'olio separato perché l'olio che mettono nelle scatolette di tonno sott'olio non è sicuramente il massimo oppure potete andare a utilizzare lo sgombra al naturale, potete utilizzare i filetti di salmone al naturale che li vendano, anche quelli sono molto pratici potete eventualmente, io non lo amo tanto, ma potete utilizzare il salmone affumicato ci sono tutte le varie confezioni di bresala di pollo, fesa di pollo, fesa di tacchino cosa potete fare per rendere ancora più sfizzose le vostre insalate? questa è un'idea che anche questa è semplice ma non è così scontata quindi io ve la consiglio potete inserire lo yogurt greco all'interno della vostra insalata quanto una confezione? No, non importa inserire una confezione basta prendere magari un cucchiaio di yogurt greco, possibilmente di quello allo 0% o al 2% di grassi in questo modo andate a mimare una sorta di Caesar salad, però in versione light io ad esempio, è passato un anno che veramente il pollo mi usciva dalle orecchie e solo l'odore del pollo mi dava fastidio, io cos'è che facevo? prendevo il pollo, lo lessavo il giorno precedente, poi lo mettevo in frigo dopo andavo a prepararmi l'insalatona, aprivo la busta dell'insalata, la rovesciavo nella classica ciotola poi prendevo il pollo, ovviamente pesato, lo mettevo dentro, ci aggiungevo magari qualche noce, qualche mandorla, qualche nocciola a seconda chiaramente cercavo di far quadrare l'introleto dei grassi quindi in base al quantitativo di grassi che ipoteticamente dovevo aggiungere invece di metterci il classico olio d'oliva, utilizzavo magari le noci, le mandorle o le nocciole poi dopo non facevo altro che metterci un cucchiaio di yogurt greco giravo tutto e anche, diciamo, se non c'era la presenza dell'olio perché i grassi erano già bilanciati dalla frutta secca riuscivo comunque ad avere un'insalata che era molto buona e molto sfiziosa chiaramente non è la Caesar salad con la maionese ma fatta con lo yogurt greco vi posso assicurare che d'estate è estremamente piacevole e questo approccio può essere utilizzato su tutte le insalate cioè con tutte le varie fonti proteiche anche se la fate in formato pesce è piacevole per esempio anche il filetto di salmone, quello al naturale che trovate già confezionato che quindi vi svincola dal concetto di farvi, magari di fare il salmone al forno e d'estate accendere il forno non è così piacevole cos'è che è andato a fare? lo buttate dentro e l'abbinamento salmone e yogurt è veramente delizioso cioè vi posso assicurare che è veramente delizioso quindi tutte queste strategie applicate all'insalatone sono perfette ok? sono adatte all'estate potete ad esempio parlare con il vostro coach voi in questo momento avete Paolo parlare con Paolo e capire magari come introdurre un pochettino più di frutta che d'estate è super piacevole, super fresca nel contesto della vostra alimentazione affinché comunque rimanete in uno stato di deficit e non vi sobalcate troppo di zuccheri quindi anche sfruttare la frutta a maggior ragione d'estate è sicuramente un'ottima soluzione perché la frutta non solo vi porta acqua e vi aiuta a tenere idratato il vostro corpo ma vi rifornisce di vitamine e sali minerali perché d'estate sapete bene che con l'eccessiva sudorazione il vostro corpo tende a svuotarsi di vitamine e sali minerali quindi frutta e verdura soprattutto d'estate dovete tenerla sempre dovete fare in modo che la vostra giornata sia ricca di frutta e verdura perché non c'è miglior fonte di vitamine e sali minerali che non i cibi veri in questo caso frutta e verdura se siete invece dei soggetti che avete bisogno dei carboidrati anche complessi quindi il riso, la pasta, il farro, l'orzo tutte queste fonti qua, beh queste si prestano in maniera fantastica all'insalatone cioè è proprio il top lo so che sono cose scontate ma delle volte se non si dicono possano passare in secondo piano invece questo è il momento giusto per essere fantasiosi e per essere sfiziosi l'idea dell'albume piuttosto che dell'uovo sodo che poi andate a rompere perché è ancora più interessante? perché ragazzi gli albumi possano essere fatti in mille modi diversi con le verdure, possano essere arricchite per esempio con la salsa barbecue voi mi potreste dire sì ma quello è un prodotto industriale sì è vero ma capiamo quanto ne andiamo ad utilizzare e la funzione che ne deve avere perché se voi ne mettete un cucchiaio un cucchiaio è mediamente 10 grammi e 10 grammi anche se il prodotto viene da una derivazione industriale non è un problema così grande se però vi aiuta a rendervi un alimento più sfizioso e farvi fare bene la dieta quindi cercate di ruotare i cibi con queste idee che vi ho dato io quindi insalatone se non avete carboidrati utilizzate l'insalata che se non avete tempo ragazzi oggi giorno al supermercato ce ne sono di mille tipi diversi già imbustate, già confezionate, già lavate basta aprire il sacchetto e rovesciarla c'è l'iceberg, c'è la lattuga ci sono quelle miste, ce ne sono mille quindi veramente avete la possibilità di crearvi dei pasti sani anche sfiziosi e anche in poco tempo cioè veramente delle volte mi viene da pensare cioè sgarrare è una scelta oggi giorno nel 2023 considerando tutto ciò che abbiamo a disposizione nei supermercati cioè non fare un pasto sano è veramente una scelta abbiamo l'opportunità con un minimo veramente di organizzazione con un minimo e un minimo 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 di tempo di portarci sempre dei pasti che siano freschi in linea con la stagione in linea con l'obiettivo che vogliamo raggiungere e che possano essere sfiziosi quindi cominciate a lavorare in questo senso se vi mancano le idee confrontatevi con noi io vi ho dato qualche input però se vi finiscono le idee confrontatevi con noi chiedete, non vi stancate di chiedere ma le soluzioni ci sono e l'estate può diventare il momento migliore poi per fare la dieta e per stare in linea grazie